Buonasera mister, da poco finito il match contro la Giovaniglia Centallo, eravate partiti bene, un 2-0, poi un 2-2, che partita è stata? È stata una partita combattuta, come tutte le partite di questo campionato, poi tra l'altro loro sono in un momento dove vengono le tre vittorie consecutive, hanno entusiasmo, quindi è stata una buona partita, il pareggio alla fine secondo me è giusto, perché nel primo tempo noi ci siamo trovati 2-0 su due situazioni di palle inattive, però forse Centallo ha fatto meglio di noi. Poi nel secondo tempo stavamo facendo leggermente meglio di loro, abbiamo avuto un'occasione, ha fatto la gran parata a Baudena per andare 3-0 e dopo secondo me alla fine loro hanno meritato, anzi hanno ancora avuto un'occasione su un piccolo infortunio di Prizzo su una palla da dare dietro e quindi penso che alla fine il pareggio sia giusto. Viene il rambarico perché è arrivato a G2 gol, però merito anche agli avversari direi. Avevate già affrontato due volte in Coppa Italia la Giovaniglia Centallo, era la gara che vi aspettavate? No, nel senso che le partite di Coppa Italia avevano dato delle indicazioni per quello che in quel periodo lì era un po' un precampionato, anche se sono gara ufficiale, quindi sapevo sapevamo che il Centallo in questo momento era tutta un'altra squadra, infatti si è rivelata tale, una squadra ben organizzata che corre, che è a ritmo, però devo dire che anche noi da quel punto di vista lì forse abbiamo giocato un po' meno al pallone come ci capita in questo periodo, però insomma tutto sommato direi che la prestazione è stata positiva. La scherza è che si sta rivelando un po' la rivelazione di questo campionato? Sì, direi che i ragazzi stanno facendo bene, tutto quello che dobbiamo fare è questo, però è lunga, questa è solo l'ottava di campionato, quindi non dobbiamo smettere di continuare a fare quello che stiamo facendo. Prossime gare con quale mentalità? Domenico andiamo a Cuneo, quindi sarà già un bel confronto per noi, nel senso che loro sono primi, adesso sono da stasera secondi, però è una squadra attrezzata per fare un centotipo di campionato, quindi andremo là con la nostra solita voglia di fare e vedremo cosa ne viene fuori. Grazie.